Sono Bianca, sono originaria di Salerno e sono a Juba, in sud Sudan. Lavoro in un team di risorse umane che gestisce 700 persone circa sul territorio. Qui alle mie spalle vedete un'area di carico e scarico, siamo nel centro di smestamento logistico. Parte della mia attività è sviluppare il personale, fare progetti di formazione. Una cosa bella che mi è capitata è stata quella di reclutare la prima storekeeper donna nel team. Uno degli oggetti che non poteva mancare nella mia valigia sono colori e post-it perché lavoro molto in team. Mi hanno insegnato a dire buongiorno, Sabalcare.